Oggi parliamo dei tipi di dati previsti dal linguaggio C, resterete stupiti ma sono solo 5. Iniziamo subito. Vi ho detto che C è un linguaggio semplice che ha un set di parole chiave molto ridotto e infatti abbiamo solo 5 tipi di dati principali, cioè può trattare numeri, parole e altri tipi di informazioni e è tutto incluso in questi 5 tipi principali che sono caratteri, abbiamo numeri interi, poi abbiamo numeri in virgola mobile, quindi numeri con virgola, poi magari approfondiremo il tema virgola mobile, poi abbiamo numeri in virgola mobile doppi per una maggior precisione e poi abbiamo quelli che vengono chiamati non valori. Queste corrispondono a 5 parole chiave, quindi i caratteri troveremo la parola char, gli interi avremo int, i numeri con virgola sono i float, i numeri in virgola doppia sono i w e i non valori vengono identificati da void. Con questo si fa tutto, ovviamente questi poi possono essere modificati da dei modificatori che vedremo, ognuno di questi viene associato a una certa misura, per esempio un char sappiamo che occupa un byte, sugli altri non ci si espone perché dipende dal sistema su cui lo utilizzate, per esempio gli interi di solito potrebbero avere due byte, però dipende, su alcuni sistemi magari ne occupano quattro e bisogna un po' vedere dove andate a cascare. Le specifiche del ANSI C dicono solo qual è il minimo numero che deve essere contenuto o che può essere gestito dai tipi di date base. Questi qua, questi cinque tipi, possono essere modificati utilizzando quelli che abbiamo chiamati dei modificatori, che sono, ve li segno qua sotto, signed che vuol dire consegno, poi abbiamo unsigned senza segno, poi long e short. Possiamo fare tutte le combinazioni, alcune non hanno senso, altre ce l'hanno di più, altre vengono usate, dire consegno ha poco senso perché ad esempio un signed int raramente lo trovate perché questo intero già prevede il fatto che sia consegno. Alcune di queste combinazioni sono un po' inutili appunto perché sono state introdotte per renderlo compatibile con il linguaggio B da cui arrivava. Ha senso magari usare un unsigned char oppure un short int, quindi è un intero più corto, abbreviato, di solito è down byte. Potremmo avere un long int oppure un unsigned long int. Quindi sono un po' da... bisogna un po' giocarci a seconda delle esigenze. E ovviamente quando andate ad applicare uno di questi modificatori al vostro tipo dati le dimensioni si modificheranno. Quindi il flow dovrebbe avere minimo 32 bit, il W dovrebbe averne 64. Possiamo creare un long W e questo arriva per lo standard ANSI-C a un'ottantina di bit. Quindi 80 bit, non viene proprio il doppio, questo dalle specifiche ANSI. Quindi il video di oggi termina qui, abbiamo visto i 5 tipi di dati principali, vedremo poi come applicarle andando a creare delle variabili e iniziando a scrivere del codice. Bene, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domani. Ciao!